Ma la smetteranno sti giornalisti di mettere bocca su cose che non sanno? Che poi non si tratta soltanto di giornalisti, ma in generale abbiamo affrontato questi casi simili nel corso dei nostri dieci anni qui su YouTube di persone che hanno un pregiudizio enorme nei confronti dei videogiochi. Ma di che cosa stiamo parlando, Migra? Allora, stiamo parlando di un record mondiale, quindi una cosa bellissima. Un ragazzo molto giovane di 13 anni, Will Gibson, ha addirittura finito Tetris. Ovviamente Tetris non si può finire perché è un gioco potenzialmente infinito. Infatti i vari livelli aumentano sempre di più la velocità e la difficoltà. A un certo punto... Sappiamo il Tetris. Esatto, lo sto spiegando, ecco. In particolare stiamo parlando della versione per NES che ha 40 anni, ragazzi. Finalmente dopo 40 anni nessuno era mai riuscito ad arrivare al punto in cui la velocità è talmente alta che il gioco si glitcha. Quindi viene considerato come appunto finito. C'è riuscito questo Will Gibson? Un ottimo risultato, incredibile. Bisognerebbe applaudire. Però invece questa giornalista americana di Sky News ha commentato così. Come una madre io solo dirò che stai fuori dal screen, vai fuori, prendere un'acqua fresca. Baccare Tetris non è un obiettivo. E mentre tutte le altre testate giornalistiche italiane, non solo, anzi soprattutto estere e anche youtuber, content creator, insomma la notizia è rimbalzata su tutti i social dappertutto perché è stato un record, hanno esaltato questo risultato di questo ragazzino. Abbiamo dall'altro lato una boomer, sostanzialmente una giornalista boomer che professa il suo parere non richiesto in una maniera che va a sminuire e derubricare un risultato conseguito da un ragazzino. Ora, l'avrebbe detto anche a un campione, che ne so, di scacchi o un sportivo? In generale la frase che ha detto la giornalista, perché immagino che lo stiate scrivendo già nei commenti, lo state pensando, non è sbagliata in senso assoluto e ci poteva anche stare come così battuta, magari al margine dopo aver fatto i complimenti, dopo aver sottolineato l'importanza di un record mondiale come questo. Escluderei totalmente il commento finale sul fatto che Tetris non è l'obiettivo della vita, fatti i fatti tuoi, cioè questa è proprio una derisione che non ha senso e tra l'altro si mette pure a ridere. Sì, come appunto a derubricare e sminuire tanto il risultato conseguito per la serie, va bene, hai fatto una cazzata, che ce vuoi? Cioè perlomeno, no che ce vuoi, ci vuole tanto, però sti cazzi, hai fatto una cosa in un videogioco, ma che... Allora, signori, signori, però, noi non siamo col paraocchi, non siamo qui a difendere i videogiochi a spada tratta, anche perché non ne hanno bisogno, non è che adesso perché questa qua ha detto queste cose, i videogiochi sono in pericolo, sono a rischio, mio Dio, dobbiamo partire tutti in quarta a difenderli. Ed effettivamente ci sono state le risposte da parte di alcuni programmatori e sviluppatori che hanno, e le state vedendo qui di seguito, difeso appunto il risultato conseguito dal ragazzino, facendo capire che non era il caso di insultare e sminuire, perché poi di fatto è stata una specie di insulto, no? Sì. In questa circostanza il risultato conseguito. Ma, ripeto, non siamo qui a difendere il videogioco a spada tratta, ogni giorno in questi dieci anni ci sono stati pregiudizi e dichiarazioni folli, soprattutto dalla stampa italiana di solito, almeno fino a 5-6 anni fa, che abbiamo trattato, e alcune volte non li abbiamo trattati proprio perché non era il caso, cioè tra un misto di rassegnazione e lasciamo perdere, glissiamo, che tanto si commentano da soli certi interventi. E anche stavolta non siamo qui a difendere il videogioco, forse un po' più il ragazzino a cui va il nostro più sentito complimento e applauso, se così vogliamo dire. Ti rendi conto, cioè già Tetris è difficile a un certo punto, quella velocità come fai a gestirla? Devi avere una potenza di calcolo cerebrale incredibile. E bravo, è bravo e magari potrà, ecco qui vengo incontro a ciò che magari avrebbe dovuto dire la giornalista, potrà sfruttare questa sua intelligenza perché poi di fatto ha un'intelligenza magari settoriale per altri ambiti, questo sì perché non è che un ragazzino di 13 anni che ti va a vincere a Tetris in questa maniera può fare solo quello nella vita o pensi che possa stare chiuso in casa tutto il tempo perché deve battere il record, magari per un periodo, quello sì. A parte che come fai a sapere o dare per scontato che il ragazzino sta chiuso in casa? Appunto, non puoi darlo per scontato. Magari gioca tantissimo a Tetris però anche esce, amici. È un chaddone, che ne sappiamo? Cioè che pensai? Magari no, però in quella circostanza suona male, però ripeto non vogliamo difendere videogiochi ma vogliamo approfittare di questa discussione che ne è nata, stanno commentando anche tanti altri content creator oltre maniche oltreoceano, soprattutto oltre maniche oltreoceano sono sempre loro, gli inglesi e gli americani che commentano tutte queste notizie perché le hanno particolarmente a cuore, come venivano trattati dai nostri genitori, cioè ci sentiamo fortunati ad aver avuto dei genitori che ci hanno sempre appoggiato, nonostante per esempio mio padre, e questo lo trovate anche nel nostro libro Inside Player Inside, confessioni di due video giocatori accaniti, Quindi nonostante mio padre e mia madre magari mi esortassero ogni tanto a fare altro oltre che giocare ai videogiochi, anche perché non è che giocassi solo ai videogiochi, mi hanno sempre supportato acquistandomi tutte le console che volevo quando era possibile farlo, chiaramente, capendo che quello era un hobby magari anche costruttivo o comunque era una mia passione, mi piaceva e quindi non mi hanno frenato in alcun modo. E se sai cosa io? Cioè devo dire non sono mai stata frenata, mai stata ostacolata, non mi hanno mai fatto nessuna battutina, anche io, una ragazza, no? E tu da femminuccia, no? Ecco, da femminuccia magari poteva starci negli anni 90 la battutina del tipo, vabbè però la femmina che gioca ai videogiochi, che ne so? La femmina? No, nessuno dei due i miei genitori mi ha mai fatto nessuna battuta di questo tipo, anche perché io comunque sono sempre stata una ragazza socievole, andavo in palestra, andavo bene a scuola, quindi nonostante giocassi tantissimo ai videogiochi non ho mai escluso le altre parti della mia vita. Ecco, è proprio questo, siccome la giornalista ha detto da madre ti consiglio però di fare anche altro per uscire di casa e fare qualcosa di più. Chi ti conosce? Tu cosa ne puoi sapere? Fai fare la madre alla madre del ragazzino. Cioè la madre del ragazzino cosa potrebbe dire? Potrebbe dire ma da madre a madre, ma fatti i cazzi tuoi, cioè ripeto come i nostri genitori non ci hanno mai ostacolato perché comunque avevamo anche altri interessi ed andavamo bene a scuola nel nostro caso, insomma non davamo adito a preoccupazioni di sorta per cui potevamo giocare quelle ore ai videogiochi, certe volte anche un po' esagerando e magari in quel caso scattava il ma almeno gli hai fatti i compiti, ecco tutto qua, ma poi in realtà era nostro interesse sia fare i compiti che fare altro, fatti i cazzi tuoi perché lo saprà la madre del bambino. Se effettivamente fa anche altro. Io qui però aggiungerei una sfumatura importante che questo ragazzino non sta solamente giocando tanno ai videogiochi, qui si tratta di qualcosa a livello agonistico quasi, a livello competitivo, cioè lui si sta concentrando per ottenere un obiettivo e ha raggiunto quello del record mondiale che è un obiettivo enorme e sicuramente quindi diverso dal classico che è gioco tutto il giorno e magari escludo altre parti della mia vita. Mi sto concentrando su un obiettivo importante che magari rimarrà alla storia, magari potrà essere la base per costruire una carriera di sport, che ne so, qualcosa per il mio futuro, anche quello. Non si può pensare che conseguire un risultato del genere in Tetris non sia una cosa importante, magari invece lo è una partita a scacchi, un risultato interessante a scacchi oppure a karate. Eh, esatto, esatto. Il ragazzino soprattutto sminuendo in questa maniera un risultato eccezionale che non ha mai raggiunto nessun altro. Ripeto, se fosse stato qualsiasi altro hobby non avresti detto queste cose, cara giornalista. Se fosse stato qualsiasi altra cosa di più costruttivo ai tuoi occhi, cioè in maniera più tradizionale, che non siano i classici, soliti, dannosi, schifosi videogiochi, non avresti detto queste cose. Se non avresti preferito... La gara di spelling, lo sai che c'è? La gara di spelling. La gara di spelling americane. Fateci sapere qui sotto se anche voi avete avuto magari un rapporto burrascoso con i vostri genitori, con i vostri tutori, chiunque fossero. Insomma, proprio perché magari giocavate ai videogiochi e neanche così tanto. Perché, ripeto, io però voglio escludere i casi in cui ci siano stati dipendenze dai videogiochi, perché quelle sono state conclamate. Quindi in quei casi è chiaro che bisogna intervenire. Certo. Sempre è il caso che intervengano i genitori o chi per loro, non una giornalista che non sa nulla, nessun retroscena della famiglia, del ragazzino. E' semplicemente perché associa videogiochi a qualcosa di inutile e allora si permette appunto di derubricare un risultato del genere in questa maniera nella TV nazionale. Fateci sapere come siete cresciuti sotto questo punto di vista, perché noi, dal nostro punto di vista, effettivamente, dobbiamo dirlo e lo ribadiamo, siamo stati molto fortunati avendo dei genitori che ci hanno sempre supportato, potendolo fare. E di questo li ringraziamo tantissimo. Assolutamente, come sempre, e anche il discorso di Tetris non è l'obiettivo della vita. Alla fine per noi i videogiochi sono stati un po' l'obiettivo della nostra vita, quindi perché darlo per scontato, cara signora? Mi spiace per i suoi figli. Sì, cioè se io tornassi indietro, farei tutte le scelte che ho fatto, che non sono state scelte. È stato un percorso naturale, un'evoluzione naturale di ciò che facevo già, cioè giocare ai videogiochi, interessarmi, appassionarmi ai videogiochi, tanto da farlo diventare un lavoro. E questo è stato magnifico, la nostra è una fiabba. E ovviamente, chiaramente, ringraziamo tantissimo anche voi che ci seguite sempre, che ci condividete, insomma, condividete con noi i momenti che a nostra volta condividiamo nei nostri video. Non potrei dire a mio figlio di 13 anni, eh vabbè però esce e vai a figa. Ma soprattutto dopo un risultato del genere. Dopo un risultato del genere. No, no, intendo proprio dopo un risultato del genere. Magari se non fai una mazza messa nell'angolino della stanza, direi vabbè almeno lavati, ecco, quello sì. Ma comunque dovrebbero farlo i genitori, non una giornalista. Con quella sufficienza e quel sorrisino di chissà, ma in realtà non è così, di avere ragione e di trovare nel pubblico, ancora più boomer, una condivisione delle sue parole. E ti è andata male per certi versi, perché i tempi, esatto, i tempi sono cambiati, eh. Comunque, vabbè, gliela perdoniamo. Ah beh, chi se ne frega, stai giornalista, alla fine, è l'atteggiamento. In generale era per approfittare di questa notizia, per raccontare qualcosa di più ampio respiro e che ci ha coinvolto da piccoli in prima persona, nonostante noi non fossimo affatto dei campioni, ma solo appassionati. Per saperne di più abbiamo pure scritto un libro, ragazzi. Già detto? Sì, esatto, trovate tutti questi ritroscena, sembra che quasi abbiamo fatto questa cosa per uno spottone. In realtà abbiamo pensato di dire questa cosa del libro mentre stiamo registrando, non l'avevamo pensato prima. Fidatevi o no, insomma, casomai il libro, il link, lo trovate in descrizione. Signori, grazie. Grazie mille, ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima.